In prima categoria, Girone e Piro tecnico 2-2 nella sfida salvezza tra Sant'Alessio e Russo Calcio, condito da qualche polemica per il rigore del definitivo pareggio assegnato ai padroni di casa. Nel primo tempo Russo Calcio in vantaggio al sedicesimo grazie a Dilettoso, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo riceve palla in aria e batte l'estremo difensore minissale. Nella ripresa in sette minuti si decide l'incontro. Al settantaduesimo il numero 9 del Sant'Alessio Tripi pareggia su errore difensivo della squadra di Barbagallo. Un minuto dopo il Russo Calcio nuovamente in vantaggio col solito Dumitrasco, che corona un'azione individuale con la rete del 2-1. Al settantanovesimo quindi rigore dubbio assegnato ai padroni di casa e realizzato da Pistone. Un buon pareggio esterno per il Russo Calcio, che lascia un po' di Amaro in bocca per non essere riuscito a gestire il doppio vantaggio. Il prossimo turno di campionato la squadra di riposto, adesso decime in classifica a 18 punti, sarà attesa da un difficile impegno casalingo contro il Milo, quarto in classifica. In seconda categoria, Amara sconfitta interna per il Calcio Giarre, che dopo aver tenuto testa per 80 minuti alla capolista Libertas-Aci-Real, colpendo anche una traversa nel primo tempo con Pennisi, cede nel finale con l'ingeneroso punteggio di 2-0. Al regionale si decide tutto negli ultimi 10 minuti, dopo una partita intensa e ben giocata da entrambe le squadre. All'ottantesimo il subentrato attaccante Gelo Blu Bonarigo sciupe una grande occasione a tu per tu con il portiere avversario e sulla successiva ripartenza la Libertas-Aci-Real va a segno con una rete di pregevole fatture di Cannavò. La squadra di Di Bella tenta di riacciuffare la partita con la forza e la disperazione, ma il raddoppio arriva implacabile all'ottantacinquesimo con Castro, che finalizza in aree un invito proveniente dalla fascia sinistra. Il Giarra dunque rallenta pericolosamente la sua marcia di avvicinamento ai play-off. In questo 2016 è arrivata infatti una sola vittoria in quattro partite. Il prossimo turno contro il fanalino di Coda Pedara sarà vietato fare passi falsi.